www.lorenzo.it Si è passato da ragazza, come una donna amica, perché lui era poi una prima donna, no? Come si dice, lo trovi in famiglia uno di quei che fai. Tutti quanti volevano bello. Era famosissimo, come se non esisteva. Non è che lui accettava la sua diversità, non la capiva neanche. E' stato effettivamente l'uomo che ha celebrato ogni giorno il Gay Pride da solo. Grazie! Doctante! 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 Doctante!